Allora oggi voglio parlare di musica e voglio parlarne con un nostro artista compositore di origine siciliana perché è nato a Palermo e da tanti anni vive in America. Lui si chiama Salvatore Di Vittorio, Salvatore Di Vittorio in effetti è un musicista che ha avuto il pallino sin da piccolo per l'orchestra in genere. L'orchestrazione poi negli anni chiaramente ha maturato anche l'esperienza da direttore d'orchestra. Oggi lo ritroviamo a Palermo qui negli studi della Pana Studio per parlare appunto di un prodotto che in qualche modo ci collega perché da 11 anni siamo amici e dopo 10 anni di attività adesso arrivano i primi risultati che riguardano opere legate a un grande compositore ormai non più vivente che è il Respighi di cui Salvatore Di Vittorio ha prodotto un elaborato, una rivisitazione nonché un completamento di opere già esistenti. Di che si tratta soprattutto Salvatore? Allora si tratta del primo concerto di Otorino Respighi riscoperto, il concerto per violino in La Maggiore di Otorino Respighi del 1903 che mi hanno affidato i familiari, i pronipoti Elsa e Gloria Pizzoli e Potito Pedare che è il curatore dell'archivio, tutto l'archivio di Respighi. Perché dobbiamo chiarire ai nostri telespettatori che praticamente si sapeva di un primo concerto in La Minore composto nel 1908 che era il concerto numero uno, a quel punto diciamo che viene rifatta se vuoi la numerazione, quindi il numero uno non è più quello del 1908 ma è quello del 1903 di cui tu hai completato diciamo l'opera. Si, Respighi ha lasciato i primi due movimenti che io ho ritoccato l'orchestrazione e poi l'inizio del terzo movimento, cioè in totale un concerto incompiuto che lui ha solo lasciato le bozze diciamo per riduzione per pianoforte. Senti, ma come sei arrivato a capire che c'erano delle incompiute di Respighi? Chi ti ha dato questa dritta? Allora, tutto ha iniziato nel 2006 quando ho stabilito la Chamber Orchestra of New York, Torino Respighi, un'orchestra con la base a Manhattan, New York, New York, in parte per presentare la musica di Respighi a altri compositori italiani, ripetori italiani al pubblico a New York. La mia musica, prima di questo la mia musica è stata programmata con altri pezzi di Respighi da direttori in Italia, Roma, Perugia, Palermo, anche Palermo e poi per fortuna conosciuta, ho ricevuto dai critici qualche articolo, qualche riconoscimento, un link collegando la mia musica a Torino Respighi. Poi nel 2007 tutto è venuto all'attenzione di Potito Pedare, che è il curatore e i pronipoti Elsa e Gloria Pizzoli, che poi nel 2008 sono diventati membri del Consiglio dell'orchestra a New York. Un po' di notizie su questa Chamber Orchestra. La Chamber Orchestra è una tua invenzione, se così si può definire, dove all'interno di questo comitato c'è Potito Pedara e oltre a Potito Pedara mi dicevi della pronipote di Respighi, che fa parte del Consiglio. Però questa orchestra ha sede a Manhattan, quindi la Palastudio insieme all'orchestra, alla Chamber Orchestra, hanno così attivato un protocollo d'intesa, tant'è che esiste la Palastudio in America, una rappresentanza legale, di cui tu sei rappresentante in qualche modo. Ma bisogna dire anche che già negli anni antecedenti a questa opera, noi avevamo pubblicato, la Palastudio aveva pubblicato sempre per Salvatore Di Vittorio, Romeo, Giulietta e Lost Innocence. Diciamo qualcosa su queste due opere, no? Sono l'opera Romeo e Giulietta e poi le due sinfonie, poiché insieme con questi lavori di Respighi, abbiamo inciso per due dischi con la Naxos, saranno fuori durante l'estate, 2011 quest'anno. Assolutamente. Sì, le due sinfonie, tutti i lavori di Respighi e anche la mia overtura respighiana che è un omaggio a Respighi, anche un tipo di thank you, diciamo, ai pronipoti, alla famiglia di Respighi per questo onore, per finire e completare il concerto. E poi altri lavori giovanili, l'area per archi, la suite per archi anche, che sono veramente, diciamo, molto importanti, composizioni molto importanti. Allora, noi stiamo lanciando questo messaggio importante perché proprio da quest'anno parte questa forte, come dire, promozione di questo lavoro a Respighi con Salvatore Di Vittorio e ci proponiamo di preparare anche una serie di concerti che andranno in tutta Europa, a partire proprio dalla città natale, sia di Salvatore Di Vittorio che della Pana Studio. Proprio da Palermo vogliamo partire con questo grande riferimento musicale nel mondo perché diverrà qualcosa di veramente importante. Tra l'altro Salvatore Di Vittorio, insieme al team, si è prodigato appunto a promuovere l'opera anche attraverso i teatri stabili della nostra terra, con la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, crediamo anche di poter fare qualcosa con il Teatro Massimo, questo per tempo, perché proprio da Palermo partirà questo tour importante, un tour ricordando Respighi con Salvatore Di Vittorio. Vuoi aggiungere qualche altra cosa, Salvatore, e poi chiudiamo il nostro servizio? Sì, solo che questi lavori sono molto importanti anche per il repertorio, tutto il repertorio di Respighi. L'aria, certo il concetto per violino è chiaro, è il primo concerto adesso di violino di Respighi. L'aria per archi è molto importante anche perché l'aria dimostra l'affetto di Respighi sul barocco, da giovane, dal 1901 questo pezzo. Particolarmente la musica di Vivaldi, Corelli, Frescobaldi è molto importante per questo repertorio. E poi la suite per archi è anche molto importante perché in inglese è un precursor, non so come dire, un preludio anche. Un preludio. Un preludio alla famosa Ancient Ares and Dancers, antiche danze ed arie, numero tre per archi di Respighi, e anche un omaggio a Edvard Grieg. Sì, molto importante. A questo punto direi chiudiamo questo servizio dicendo che queste parti comunque si possono prenotare e si possono noleggiare attraverso il nostro sito panastudio.it e ci sono anche delle riduzioni per pianoforte, abbiamo la possibilità appunto di far sentire, far girare anche attraverso dei piccoli MP3 disponibili sempre nel nostro sito della Panastudio per ascolto di eventuali direttori che hanno voglia di portare in giro il progetto Respighi. Quindi con questa ultima notizia vi diamo una buona giornata e buon ascolto.